Il senatore ha lanciato un avvertimento per il 21 giugno quando Draghi riferirà in Senato sul Consiglio Europeo, i 5 Stelle ha detto tenteranno l'agguato al governo, c'è area di crisi quindi? Sì perché i 5 Stelle sono fuori di testa, sono degli irresponsabili, non si rendono conto che in questa situazione stanno scherzando col fuoco, ma io sono ottimista sul fatto che tutti insieme daremo una mano a Draghi e l'area di crisi sarà cacciata, anche perché Draghi è una persona seria a differenza di Conte. Lei ha pubblicato un libro sulle sue vicende giudiziarie dal titolo evocativo, Il Mostro, e lei è Il Mostro? Voglio non farmi passare come Il Mostro, ma chi leggerà questo libro che non è solo sulla giustizia ma su tante altre cose si renderà conto che non è così, levando il nome Renzi e mettendo un nome a caso rileggere la storia fa un effetto incredibile perché cambia la cronaca degli ultimi 10 anni in Italia, provare per credere. Ma Renzi ritiene di aver commesso qualche leggerezza oppure soltanto una vittima? Ma certo che io ho fatto errori politici e non mi sento nemmeno una vittima, io scrivo nel libro sono una persona felice, ma leggerezza giudiziarie, errori giudiziari mai. E come si risolve la questione giustizia? Con una riforma? A voi contestate la riforma Cartabia? Questa riforma è all'acqua di rose, ormai temo dovremo aspettare la prossima legislatura. Nel frattempo però ci sono i referendum. Speriamo che passino, però hanno tolto i referendum principali, quelli che richiamavano gente alle urne dall'eutanasia fino alla responsabilità civile dei magistrati. Il quorum è molto difficile, io comunque voterò 5 sì.